Degli anni 70, una data che mi porto nel ricordo è il 9 maggio del 1978, giorno in cui è stato trovato il cadavere senza vita di Aldo Moro e lo stesso giorno in cui è stato ucciso per mano della mafia siciliana Peppino Impastato. Questo ci ricorda due guerre che ha portato avanti lo Stato, uno contro il terrorismo politico e l'altro contro la mafia. La prima guerra per fortuna è stata vinta, la seconda purtroppo ancora no, in quanto ci sono ancora molte difficoltà a tenere la mafia lontana dalle istituzioni.